Nel corso dell'interrogatorio di garanzia depositato al riesame si è difeso Alfonso Tumbarello, medico di Campobello, in carcere con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e falso. Per il PM avrebbe curato per due anni il boss durante la latitanza, intestando farmaci e prescrizioni ad Andrea Bonafede, geometra che prestava l'identità al capo mafia, pur sapendo chi fosse realmente il paziente. Non ho mai avuto contatti né diretti né indiretti né professionali né personali con questo soggetto che è stato identificato con Matteo Messina Denaro. Oltretutto, lo ripeto, dice ancora Tumbarello ai giudici, io per questi tre anni che c'è stato ho condotto una vita monacale, casa e lavoro, senza alcuna frequentazione in giro per Campobello, nella maniera più assoluta. Il medico ha però ammesso di aver organizzato un incontro tra l'ex sindaco di Castelvetrano, Antonio Vaccarino, poi condannato per traffico di droga, e il fratello di Messina Denaro Salvatore. All'incontro ha però svolto nel suo studio e il dottore ha detto di non aver partecipato. Tumbarello ha poi parlato della vicenda per il quale è stato arrestato, non posso essere certo, ma perché non ricordo perfettamente, penso che almeno inizialmente sia venuto Andrea Bonafede, il pelato. Penso, non lo posso dare per certo, mi ha esibito il referto di una colonoscopia. D'altronde, spiega il giudice, il segreto professionale, la base principale della serietà professionale. Insomma, dopo aver visto la diagnosi di cancro, Tumbarello per due anni avrebbe seguito a distanza senza visitarlo Bonafede, in realtà Messina Denaro, e prescrive gli esami e farmaci. Sulla base dell'indicazione di uno specialista oncologo che mi richiedeva di fare degli altri accertamenti.